Prato Libera e Sicura alza il tiro contro il presidente della regione Enrico Rossi. Al centro, manco a dirlo, ancora i controlli degli ispettori della ASL nelle aziende cinesi. L'ex assessore alla sicurezza sta vagliando con gli avvocati se ci sono gli estremi per presentare un esposto alla procura della Repubblica contro un'affermazione del governatore durante la sua recente visita a Prato per presentare il bilancio del primo mese di ispezioni. È riportato anche dalla stampa in cui dice che i clandestini, i clandestini, gente che non dovrebbe essere su questo territorio, ma a parte questo, sono una risorsa per l'economia locale e se vanno via diventa un problema. Cioè a questo punto io credo che ci siano anche gli estremi di un esposto per quanto riguarda l'istigazione allo sfruttamento della manodopera clandestina. Mi pare che esiste ancora questo reato, se poi il nostro Stato ha abolito questo governo, ha abolito anche questo reato, questo è accaduto da qualche giorno. Ma sono anche i numeri del bilancio del primo mese di attività dagli ispettori assunti dalla regione per ristabilire la legalità nelle aziende cinesi dopo la tragedia di Via Toscana a indispettire l'ex assessore. Dati sui lavoratori al nero non ne sono stati forniti, anche perché controlli non ne hanno fatto. Quindi in conseguenza, diciamo su 68 aziende, una media di 10 operai alle dipendenze, vuol dire che è stato messo il controllo per quanto riguarda la posizione contributiva di 680 operai. La legge consente la sospensione dell'attività in presenza del 20%, diciamo su 10 basta che siano al nero 3. E' una costante, lo sappiamo tutti, che i lavoratori controllati, come fa solitamente con serietà il gruppo Interforce, porta a riscontrare il 99% di lavoratori al nero.